Per me, come si è posto? Scusate, grazie. Scusate. Sono la domanda di Alcocerano. Scusate. 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 Una volta che voi avete comunicato ufficialmente a un esempio di questo, questa cosa. Per me poi siete a regio. Il problema è che mettono i saccini proprio alla porta, il polpone è chiuso. Poi chi serve che se ne prenda qualcosa si può ricordare, raccomando. E come scricchi, no? Eh, esci, va. Potrai qui non entrare, ma è un quadro da cemente. No, metta, metta questo, va. Non c'è fatto, non c'è fatto. Abbiamo fatto tutto. Oh, attento! Grazie a tutti.